Amici di Giovanni Paolo TV, buona giornata, buona serata, buona domenica. Mi piace pensare a questa settimana che è andata, con le luci forti dei Santi che abbiamo celebrato, San Carlo Borromeo, Guido Maria Conforti, vescovo di Parma, fondatore dei Saveriani, e anche con, purtroppo, mi piace meno ma dobbiamo parlarne, delle disgrazie che sono avvenute. Penso a Valencia, penso a questa tragedia, vado indietro nel ricordo della giornata mondiale delle famiglie, che mi vide a Valencia, mentre l'Italia vinceva i mondiali in Germania, mi pare il 2005 o 2006, e quando ho già a Valencia, in quei giorni, era tormentata dal lutto di un'esplosione della metropolitana, città bellissima, bella, fiorente, e come la natura vulnerata, la natura vulnerata da questi cambiamenti portati dall'uomo che diventano cambiamenti climatici, vada in una direzione incontrollata e che determina quello che è successo. Ma penso che dal macro possiamo passare anche al micro. Pensate, amici, a una cosa che per qualcuno è un segno di civiltà e di progresso. La possibilità, determinata per via amministrativa, non è la prima volta che succede, nella nostra regione Emilia-Romagna, di poter assumere la pillola abortiva a casa. Dopo aver assunto la prima al consultorio in struttura, la seconda a casa. Non è una techipirina. È una pillola che determina, qualora ci sia stata, la fine dell'annidamento di un ovolo fecondato che significa una vita umana, che se fosse messa sotto ecografia ci farebbe già sentire il battito del cuore. Bene, questa viene, la si può assumere a casa, con i rischi anche fisici, anche se è assicurata l'assistenza sanitaria. Ma sapete, il nostro sistema sanitario, che è un'argine che fa, che ha molti falle, e nello stesso tempo nella solitudine, in un gesto, che è quello dell'aborto, che lascia un segno in chi lo fa, un segno profondo, un segno che durerà per tutta la vita. Allora questo, amici, non credo proprio che sia civiltà. Non credo che sia un qualcosa che dica qualcosa di più della dignità e della libertà della donna. Credo che un qualcosa di chimico così articolato non risolva niente, mentre invece dobbiamo andare a ritroso, ad educare al valore della propria persona, del proprio corpo, della relazione uomo-donna, del valore del generale, per scaturire una procreazione responsabile, frutto di quell'intendimento che è l'intelligenza umana dell'uomo, della donna e di quel progetto incredibile che i due possono avere di generare vita. Buona serata, amici.